eccoci qua cari amici di la mia vita spaziale per una nuova puntata dedicata al mondo del digital questa volta parliamo di grafica ma lo vediamo subito dopo la sigla la mia vita spaziale come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro idee strategie e consigli a cura di andrea brugnoli eh sì cari amici questa volta ho trovato un sito veramente fantastico mi piace un sacco ed è un toccasana per tutti quelli che hanno da fare qualcosa di grafica di design di marketing siti può essere utile per moltissime cose perché è un sito che parla di colori e cosa fa essenzialmente questo sito questo sito che si chiama colors.co quindi troverai il link nella notte dell'episodio co colors con due o.co praticamente ti abbina i colori eh sì perché certi colori stanno bene con altri colori invece stanno malissimo cioè sono un pugno nell'occhio se sono accostati a degli altri colori questo sito è veramente fatto molto bene perché tu puoi far generare dal sito stesso una palette di colori sono in genere cinque colori che si abbinano perfettamente di ogni colore c'è il nome c'è il codice quello col cancelletto davanti per cui dopo lo puoi usare anche che ne so in photoshop o in altre funzionalità e di ogni colore tu puoi scegliere anche la gradazione del colore quindi puoi scegliere quanto lo vuoi chiaro quanto lo vuoi scuro puoi naturalmente mettere il tuo colore di partenza quello che ti interessa magari che quello del tuo logo e lui ti trova fuori gli altri quattro colori che si abbinano perfettamente devo dire sono delle palette veramente fantastiche naturalmente tu puoi salvare queste due palette che lui ha costruito che ti ha proposto puoi esportarle o puoi anche per esempio se non hai idea di quali colori usare ma magari hai una foto che ti piace puoi far caricare al programma questa foto e lui dalla foto estrapola i cinque colori che lui ritiene siano i più belli per quella foto e quindi te li abbina in modo perfetto in modo tale che tu puoi usare dopo quei colori per fare per esempio un volantino più chiaro sfondo poi puoi usare per i titoli non so i due più scuri per qualche altro elemento gli altri due sono poi scegliere davvero quello che vuoi fare come sport alla palette la esporta come un url dare un indirizzo interna dare qualcun altro come un pdf un png un codice da mettere dentro un sito un file vettoriale svg da importare per esempio copic da importare per esempio in illustrator di adobe insomma è davvero un sito ben fatto che ti dà un sacco di idee perché certe volte è così semplicemente per creare una grafica nuova basta partire dai colori devo dire che è molto utile io lo sto usando un sacco perché prima di star lì a far mille prove per trovare i colori che si abbinano questo programma fa tutto con un click ed è anche gratis sì io mi diletto molto di grafica mi godo un sacco poi quando vedo i colori le palette di colori e mio cuore è pieno di gioia perché sono un amante del colore colore mi ha sempre affascinato fin da piccolo e il colore è un linguaggio eccezionale perché può dire tante cose certi colori vanno bene per determinate per esempio tipi di aziende o di attività per esempio faccio un esempio il blu per quanto riguarda banche business l'arancione per quanto riguarda l'edilizia che ne so il il viola per quanto riguarda il lusso ecco ogni colore ha il suo messaggio e anche il suo target però queste palette di colori riescono a mischiarli in modo perfetto e quando tu ti segni il codice giusto di ogni palette che vuoi usare il risultato è garantito cioè l'occhio si riposa e quando c'è come dire gioia interiore per questa armonia di colori la persona sta più attenta al contenuto quindi al messaggio che viene fatto passare io sono andrea brugnoli questo è il podcast la mia vita spaziale e anche quest'oggi ti ho dato il mio consiglio voglio approfittare del momento perché domani è pasqua per augurare quindi a tutti i miei ascoltatori tutti i miei ascoltatori che sono veramente tanti li ringrazio uno a uno quelli che mi ascoltano una volta ogni tanto quelli che la prima volta che mi ascoltano quelli che mi seguono in ogni puntata una buona pasqua che sia veramente una pasqua di liberazione quest'anno da questo virus e possiamo finalmente goderci tutte le nostre attività che possiamo fare anche con i nostri dispositivi di cui anche questo podcast vuole essere un piccolo servizio per farceli conoscere per farceli apprezzare allora a tutti quanti buona pasqua e come faccio di solito potrei dire che sia una pasqua spaziale la mia vita spaziale come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro a cura di andrea brugnoli